Un nuovo inquietante episodio criminale scuote la provincia di Foggia. Un ordigno di tipo artigianale è stato fatto esplodere ad Ortanova davanti all'abitazione di un poliziotto in servizio nella squadra mobile della questura del capologo Dauno. L'attentato è stato messo a segno nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 settembre. In base a quanto emerso sulla vicenda, sulla quale vige il massimo riservo da parte degli inquirenti, la bomba rudimentale è stata collocata in prossimità dell'ingresso dello stabile dove il poliziotto vive con la sua famiglia. L'esplosione ha provocato danni ad una cancellata ma fortunatamente non si sono registrati feriti. L'agente, uno dei più esperti tra quelli in servizio presso la questura foggiana e coinvolto in passato in alcune importanti operazioni antimafia, era già finito nel mirino della criminalità. Si tratta infatti del quarto atto intimidatorio di cui l'uomo è rimasto vittima negli ultimi tre mesi. Di recente si contano infatti due esplosioni di ordini artigianali davanti alla sua casa di Ortanova e altrettanti furti di autovetture di proprietà di alcuni suoi familiari. Anche alla luce di tali episodi ci sarebbero pochi dubbi sul fatto che questo nuovo attentato sia collegato con l'attività professionale del poliziotto. La squadra mobile sta portando avanti le immagini sull'accaduto. Al vaglio i filmati registrati dalle telecamere di sicurezza presenti nei pressi dell'abitazione dell'agente nel centro di Ortanova. Il comune, sciolto dal Consiglio dei Ministri per infiltrazioni mafiose e sottoposto a commissariamento, è considerato uno dei crocevia dei traffici illeciti gestiti dalla criminalità organizzata foggiana.